Giuseppe Esteri Oggi essere adolescenti significa affrontare una fragilità adulta senza precedenti. Io non mi sarei mai immaginato che l'individualismo, la complessità portasse padri, madri, insegnanti, educatori, anche colleghi psicologi, a fare interventi più che promossi da una identificazione con chi abbiamo davanti, con quel ragazzo e quella ragazza, ma mossi prevalentemente dalla necessità di fare qualcosa, di sentirsi autorevoli, di dormire sonni tranquilli. Oggi gli adulti faticano enormemente a identificarsi con i propri figli, studenti, allievi. Ed è un problema importante questo. È un problema che riguarda il fatto che abbiamo modificato profondamente il modo di crescere le nuove generazioni. I bambini di oggi crescono all'interno di miti affettivi, sociali, culturali, diversissimi, una famiglia che è cambiata, modelli che precocizzano le esperienze. Noi adultizziamo l'infanzia, poi arriva l'adolescenza e in Italia non siamo stati in grado di adattare il modello educativo che noi abbiamo modificato in infanzia con l'arrivo dell'adolescenza. Per cui l'altra emergenza educativa, ma è legata a quella che ho detto prima della fragilità adulta, è che in Italia è in corso un processo di adultizzazione o precocizzazione dell'infanzia a cui segue l'infantilizzazione dell'adolescenza. Abbiamo cambiato tutto, poi arriva l'adolescenza e io dovrei essere qui a dire che contano le regole, i no, i paletti. Ma come? I bambini oggi sono spinti a socializzare, a avere tanti amici, crescono all'interno di una famiglia che chiamo da diversi anni quella della madre virtuale. A breve il primo pigiama party lo faranno direttamente in uscita dalla nursery, tanto il dress code è già pronto. Poi, arrivata l'adolescenza, ecco che l'adulto vuole diventare autorevole coi paletti, le regole, le norme. Nel frattempo i ragazzi sono cambiati. E in questo senso la fragilità adulta ha spinto negli ultimi anni a trovare in Internet e nella pandemia i grandi schermi su cui proiettare tutte le contraddizioni e le nostre povertà educative. Prima era Internet, ve lo ricorderete, prima dei decreti restrittivi della pandemia, i primi importanti, 7-8 marzo 2020, Internet li faceva male, li faceva diventare gorbi, sordi, muti, praticamente era tutta colpa di Internet. Poi gli abbiamo detto che invece dovevano collegarsi alla rete. Loro, unico target, vi ricordo in Italia, che è stato obbligato, obbligato a mettere la faccia davanti allo schermo, quando da sempre sappiamo che la vergogna è la caratteristica che spinge molti ragazzi ad abbandonare la scuola e mettere la faccia davanti allo schermo. Non è semplice, in più facendo entrare i propri compagni. Ma loro ci volevano fregare. Ho fatto anche 4 webinar al giorno per due anni. Nessuno è stato obbligato e ha preso crediti formativi, tavoli importantissimi che non sto qui a citare. Nessuno doveva mettere la faccia. Loro no, ci volevano fregare. Da questo punto di vista, questo testimonia che non c'è identificazione, c'è un bisogno adulto. E poi la pandemia. Nessuno vuole ridurre le ricadute di un'emergenza sanitaria mondiale sulla salute mentale dei giovani e di tutte le generazioni. Ma guardate che i disturbi della condotta alimentare, l'anoressia, il ritiro sociale, il famoso fenomeno degli hikikomori che dal Giappone è arrivato in Italia da diversi anni, che è l'equivalente al maschile dell'anoressia femminile. È in aumento. I tagli, il self-cutting, i tentativi di suicidio, seconda causa di morte in età giovanile. E noi non ne parliamo, diciamo che la pandemia erano già presenti. Già le neuropsichiatrie pubbliche e private avevano un aumento, un accesso, un aumento di ragazzi che facevano così. La pandemia ha solo esacerbato questi aspetti. Allora, siccome siamo in una sfida e bisogna dire qualcosa che ci porti ad affrontarla, la prima questione da avere in mente è di togliersi intorno a dei luoghi comuni dalla mente sugli adolescenti. L'adolescente trasgressivo, l'adolescente onnipotente, l'adolescente pulsionale, forse una volta. Gli adolescenti non sono mai stati onnipotenti. È una favoletta che si racconta all'adulto. I bambini sono onnipotenti. L'adolescenza è l'età in cui scopri che è finita l'onnipotenza. Morirai, scoprirai che sei finito. E i comportamenti a rischio adolescenziali non avvengono come piace pensare perché sei onnipotente, ma perché alcuni ragazzi, per dar senso al fatto che si morirai ed è finita l'onnipotenza, rischiano, vanno vicino alla morte, cercano di controllarla attivamente e purtroppo ci finiscono nelle braccia. L'adolescente odierno non è più trasgressivo, ma da diversi anni la trasgressione è scomparsa. Non è il motore del consumo dei cannabinoidi, dell'acid, della marijuana, delle droghe, del sesso. Non c'è più niente da cui trasgredire. Si trasgrediva ai tempi del padre autoritario, nella società sessofobica. Oggi il tema è la delusione, non si cresce per trasgressione. E anche la sessualità, il tema meriterebbe un grande approfondimento, sta scomparendo. Oggi arrivano diversi dati di ricerca che a fronte di questa precocizzazione ci dicono che il sesso è sempre meno importante per le nuove generazioni. Conta vivere nella mente dell'altro, non compenetrare il corpo. E non a caso selfie e sexting si diffondono. Ma da dove gli è venuta questo modo di essere? Gli è venuto davanti a delle trasformazioni che i miti affettivi familiari, sociali, culturali, gli hanno imposto. Ed è qui che dobbiamo cambiare. Non ha più senso continuare a proporre modelli educativi agli adolescenti fatti sulla privazione. Noi priviamo ancora. Forse funzionava una volta, non hai fatto questo, ti tolgo. Pensate al corpo. I bambini hanno un corpo sotto sequestro da anni. Sono state le mamme, i papà, la società a chiudere i cortili e i giardini. Quando si poteva battagliare col corpo, il sangue scorreva copioso nelle scuole elementari di una volta e nei cortili. Altro che le battaglie violenti dei videogiochi. È stata la nostra paura che fa sì che li accompagniamo a scuola la mattina. L'avete mai vista questa scena? I genitori che li salutano, spesso in due. Bambini di 8-9 anni, manco partissero sul Titanic, per non tornare più, vanno a scuola. E poi li devi riandare a prendere. E sbracciare, se no, l'insegnante non te lo consegna. Gli abbiamo preso il corpo e lo mettiamo sotto sequestro. Poi a scuola, se un bambino si muove, note abolite negli anni 70. Il bambino gioca con la mela, si alza anche dopo la pandemia. Loro, per venirci incontro, cosa hanno fatto? Hanno detto, vabbè, virtualizzerò le esperienze, metterò il corpo in internet, userò degli avatar o dei personaggi, socializzerò. Almeno la mamma e gli insegnanti mi ringrazieranno. No, internet a loro fa male, ma dove devono andare con questo corpo? E internet? Riapriamo la scuola, dopo una pandemia, dopo quello che ho già detto. È in corso una guerra, l'avete sentito. C'è un'assenza di futuro senza precedenti. I ragazzi attaccano il corpo. L'intervento autorevole per il quale si attivano tutti è... togliamogli il cellulare. In questo momento il dibattito torna a essere, io lo immaginavo, è venuta un po' meno l'emergenza, non è più la pandemia, di nuovo internet. Sequestrate il cellulare che li distrae, che li fa male, ma come? Se abbiamo scoperto che la povertà educativa è povertà digitale, che in certe regioni un ragazzo su tre non era raggiungibile da internet. Ma cosa aspettiamo a costruire una scuola dove internet contrasti la sottocultura di internet, ma promuova il collegamento digitale, per non parlare delle bocciature. Ti boccio così capirai che cosa. Il soggetto narcisista davanti alla bocciatura si defila dalla scuola. Abbiamo dei NIT senza precedenti, come numeri, ragazzi che non lavorano. Quando bocci un adolescente odierno, ed è per questo che bisogna trovare sistemi di valutazione alternativi, che non vuol dire non valutare, ma basta bocciare pensando che la bocciatura li aiuterà a mettersi in ginocchio sui ceci e a tornare più motivati. Il soggetto narcisista che cresce per delusione se ne va dalla scuola. Aumentiamo i NIT, se ci va bene. Se ci va male, aumentiamo l'antisocialità, perché un ragazzo che è fuori da scuola, tutti i dati ce lo dicono, cercherà un'appartenenza in gruppi devianti, qualcuno gli deve dire che ha un futuro. Allora, credo che sia arrivato il momento di fare questo, di smetterla di ascoltare gli adolescenti senza sentirli. La famiglia odierna ascolta i figli molto di più di quanto fosse ascoltato io, credetemi. E non vi dico di quanto fosse ascoltato mio padre. Mio nonno non sapeva neanche quanti figli aveva in casa. Il problema è, se siamo in grado di ascoltare, cosa hanno da dirci. Se capiamo che la società dell'iperideale ha costruito un sistema per cui non si sentono mai sufficientemente belli e popolari, e quindi basta in famiglia con spegni il cellulare la mezz'ora a cena, che così siamo una bella famiglia, così tutti stanno zitti mezz'ora, e poi corrono a recuperare la vita in internet nelle ore successive. o la promozione della settimana detox. Ragazzi che pur di tenere buona la papà, la mamma, gli educatori, anche gli psicologi, vanno a farsi una settimana. Come andata? Benissimo, internet è usato. No, e adesso torna a usare internet. Forse non l'avrete capito, ci dicono, ma in Italia dagli 0 ai 10 anni la mamma spaccia internet. Da mattina a sera diffonde lo smartphone, lo dicono tutte le ricerche. Dai 19 anni in su, se non usi internet, non puoi iscriverti all'università, ne fa niente, ma dagli 11 ai 18, con la scuola secondaria, è una droga. Ma in che senso? Oggi a tavola bisogna chiedere ai figli se pensano di suicidarsi, non è una battuta. Come va oggi in internet? Cerchi una soluzione ai tuoi problemi? Cresci secondo le ricerche? O sei alla ricerca di una challenge? Dove poi morirai impiccato e noi ai funerali, invece di star zitti, in una società che pornografizza tutto, dove non c'è più vergogna negli adulti, mentre i ragazzi non si vergognano, esce il feretro di qualcuno che ci è suicidato e applaudiamo. Una grande festa, lanciamo palloncini, invece di pensare a cosa abbiamo creato. Al fatto che esiste una voce all'interno di certe giovani menti che dice meglio morte popolare che in vita è trasparente. Chissà da dove gli è venuta questa idea della popolarità. E a scuola? Stiamo ancora discutendo se la maturità va fatta con la penna o con la penna stilografica. Ma cosa aspettiamo a fare prove? Open Internet, si chiamano. Prove in cui la valutazione non è solo la restituzione a quello che l'insegnante ha detto durante la settimana, ma un momento in cui sei ore, apprendi altre cose mentre verrai valutato. Si faceva così una volta, si facevano le ricerche e ti davano dieci, oggi se le fanno in Internet copiano. Ma in che senso? È questo che serve a educare al digitale. Non andare in classe a fare il discorsetto infantilizzante. Tu non prevaricare, ci pensa tua madre con i gruppi di WhatsApp che governano la scuola italiana a parlare male degli altri. Insomma, gli adolescenti di oggi sono espertissimi di relazione. Non vedono l'ora di essere pensati. E credetemi, non cercano di vivere nella mente solo dei coetanei e della rete. Cercano di essere pensati da degli adulti. La sofferenza adolescenziale, il disagio che ho descritto, l'attacco al corpo, deriva dal fatto che non intravedi un futuro. Loro hanno bisogno di adulti che li vedano, che li convocano, che li responsabilizzino, che gli diano ruoli, che costruiscono una scuola identificata, una scuola che dall'errore costruisce il sapere, come sappiamo. Adulti che ti convocano, non in una comparsata, in un consiglio comunale, o un'assemblea regionale, ti diano dei ruoli. Insomma, i ragazzi hanno bisogno di adulti che nei loro ruoli, ogni giorno, li convocano e gli dicono «Guarda, è un mondo complesso. Ti stiamo avvicinando le risorse per costruirti un futuro. Credimi, sarà difficile che voi e le generazioni future possiate trattare la Terra e l'umanità peggio di quello che abbiamo fatto noi». Grazie. Grazie. Grazie.